Buongiorno e bentornati alla trasmissione mattutina di Super J di prima mattina. Dopo la rassegna stampa questa mattina verrà a trovarci Dante Caserta del WWF Italia, uno dei responsabili anche del WWF locale. Ma cominciamo subito con la rassegna stampa, andiamo a leggere insieme come ogni mattina le principali notizie pubblicate dai quotidiani locali. Iniziamo con il quotidiano Il Centro, tutti con la mascherina, sempre lotta all'aumento dei contagi. Ecco come cambia da oggi la situazione con il decreto Covid. Le regole da rispettare, obbligo all'aperto e al lavoro, raccomandate in casa tra amici e nessun obbligo invece per chi fa sport. Per i trasgressori, multe fino a 1000 euro. Dunque oggi occhio nuove regole con le mascherine che vanno indossate sempre all'aperto e sono raccomandate anche tra amici quando ovviamente non è possibile rispettare la distanza prevista. La situazione sanitaria in Abruzzo, 61 nuovi casi e c'è anche un morto. La seconda ondata Covid scoppia, un focolaio a Sant'Egidio, alla Vibrata. Sfollati sono in arrivo gli arretrati, il sindaco incontra Regione Protezione Civile con Legnini, non ci fermiamo. Lutto a Giulia Nova, muore per un malore a 50 anni, la donna era stata rappresentante del comitato di frazione, si chiamava Mirella Campanella. A Pineto rifiuti i tessili, a fuoco, infortunato un pompiere. Calcio serie C, Bunino carica e dice a Teramo per spiccare il volo. Coronavirus, Abruzzo, nuove misure, scatta l'obbligo delle mascherine. Conte anche in casa tra amici. Entrano in vigore oggi le regole all'aperto e al chiuso, pure negli uffici, sanzioni da 400 a 1000 euro. Per i locali che non fanno rispettare il provvedimento si può arrivare alla chiusura fino a 30 giorni. La Regione Abruzzo può adottare solo misure anticontagio più restrittive di quelle disposte dai DPCM del Governo, come imporre ad esempio la chiusura anticipata dei locali pubblici. Restano chiuse le discoteche per cinema, teatri e concerti. Resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e di 1000 persone per quelli all'aperto con obbligo di distanziamento. È stato inoltre prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. In base all'andamento epidemiologico potranno essere stabilite azioni per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale. In questo schema il riepilogo delle misure previste nel DPCM ottobre. Obbligo di indossare la mascherina all'aperto, igienizzare le mani e mantenere la distanza di un metro nei luoghi chiusi. Ingressi contingentati nei negozi. Sanzioni da 400 a 1000 euro. Distanziamento obbligatorio in ristoranti e pizzeria. Ancora manifestazione all'aperto con massimo 1000 persone. Feste, concerti, matrimoni e altri eventi al chiuso con massimo 200 partecipanti. Le discoteche restano chiuse. La Grecia esce dall'elenco dei paesi a rischio e su aerei, treni, navi e bus capienza massima dell'80% dei posti. Queste dunque sono le nuove misure in vigore da oggi. I contagi schizzano 3678 in un solo giorno in Italia. È il dato peggiore dal 16 aprile in pieno lockdown. Ma è anche record di tamponi. Oltre 125 mila quelli analizzati. Consigli pratici come evitare le maximulte. Ecco tutte le risposte ai dubbi. Ad esempio la mascherina va sempre indossata sui mezzi pubblici e anche alle fermate. Naso e bocca rigorosamente coperti anche all'aperto se non si può mantenere le distanze. Mascherina obbligatoria nei posti di lavoro se non si sta in un ambiente isolato. Viso sempre protetto anche durante lo shopping nei negozi. Sviluppi in Abruzzo impennata del Covid. Scoperti 61 nuovi casi. Un morto e record di contagio ad Avezzano. Tra i positivi una bimba di due anni. La nostra regione batte il resto d'Italia. È quella che usa di più l'app Immuni. E intanto la scuola si prepara a scendere in piazza. Mercoledì prossimo la mobilitazione anche in Abruzzo con presidi e flash mob. Con presidi, scusate, flash mob davanti alla prefettura. Le altre emergenze nella giornata della vista. Ecco le malattie da battere. Mastro Pasqua spiega. Sono almeno quattro tra queste glaucoma e occhio pigro. Il professore rinnova l'invito alla prevenzione. Fondamentale la diagnosi precoce. Ed è proprio oggi la giornata mondiale della vista. Da Pescara a Roma in meno di due ore il ministro De Micheli presenta il progetto che è spiegato questa mattina nel dettaglio sul quotidiano Il Centro. Dopo il voto gli scontri e le alleanze. La Lega Marsiglio decida su Febbo. Lo Stato Maggiore è riunito a Chieti. Deramo pronta ad incontrare il governatore. E si tratta sul rimpasto di Giunta. Andiamo adesso alle notizie dalla provincia di Teramo. La seconda ondata cresce l'allarme. Covid scoppia. Un focolaio a Sant'Egidio. Ieri dieci nuovi contagiati. Il sindaco si prepara a far chiudere prima i negozi. Positiva una studentessa delle medie a Torano. A Colonnella l'aggiunta è risultata negativa dopo che un assessore si è ammalato. A Silvi Sani tutti i professori delle classi con due casi al liceo di Atri si attendono i tamponi. Isola del Gran Sasso scatta la psicosi del contagio. Tutti all'ambulatorio per i test. Post sisma l'autonoma sistemazione CAS. In arrivo gran parte degli arretrati. Il sindaco incontra Regione Protezione Civile e rassicura tutti. I decreti per accelerare con Legnini. Non ci fermiamo qui, ha detto d'Alberto. Verifiche sui danni alle chiese, lo chiede Verzilli, che chiede gli atti sulla ricognizione post sisma a tutela di fedeli e anche del patrimonio. Appalto. Atac e gomme euro. Assolto l'ex dirigente. La procura lo ha accusato di abuso d'ufficio per i giudici. Il fatto non sussiste. Alle battute finali due processi per la presunta truffa e l'evasione fiscale. In tanti per l'addio all'escursionista Ricci. Ieri al Sacro Cuore i funerali del geometra 65enne morto precipitato domenica sul Gran Sasso. Casa del Popolo riapre lo sportello di ascolto con gli incontri gratuiti. Area di sosta per le scuole a Piazza Donatori di Sangue. L'assessore del Comune di Teramo Verna annuncia progetti per il parcheggio. Sconti per professori e studenti anche per la struttura di San Francesco. Si pensa a nuove tariffe per i residenti. A Montorio muore lo storico autista degli scuolabus. Lettera pastorale del vescovo. Oggi ci sarà la presentazione. L'eredità della piccola transumanza. Oggi nella sala ipogea un convegno su una tradizione che toccava la città generando cultura. Pugni e insulti da anni alla ex moglie allontanato per il 45enne di Civitella del Tronto. Il magistrato applicato il codice rosso. La violenza acuita dalla gelosia dopo la separazione. Lei ha un nuovo compagno. Alba Adriatica comparse delle scritte con lo spray sulla chiesa che si trova in centro. Tortoreto, giro d'Italia, vertice sui lavori. La provincia rifà il manto a otto strade con 700 mila euro della regione. A Tortoreto Lido ancora danni, furti e rabbia nell'area sportiva di via Napoli. Piazza Dalmazzi e Sama Giulianova. Dalla giunta arriva l'ok al progetto esecutivo. Il comune prepara la gara d'affalto per affidare l'intervento e i lavori inizieranno a metà novembre. Via libera anche al restauro e al consolidamento statico della sala banda della scuola dei amicis. Lutto a Colleranesco muore a 50 anni stroncata da un malore. Mirella Campanella era stata una conosciuta esponente del comitato di quartiere. Ordinanza per il Giro d'Italia, divieto di circolazione per auto e anche scuole chiuse in occasione del passaggio della Corsa Rosa. Ancora Giulianova, cena nel cielo, stoccate fra organizzatori e comune. Roseto, centro rifiuti privati pronti a chiedere i danni al comune, le due società che hanno fatto investimenti nella zona, perdite economiche e di posti di lavoro. Anche loro faranno ricorsa al TAR insieme a residenti e associazioni. Oggi se ne discute in consiglio. Ancora Roseto, le associazioni sportive nominano Angelini, il consigliere comunale scelto come referente al tavolo del turismo che decide sulla tassa di soggiorno. Mense scolastiche, appalto affidato fino al mese di giugno, prorogato il servizio di trasporto per gli alunni disabili. Sempre a Roseto, Rotonda Sud, Pavone protesta per la campagna di cemento. A Pineto, Banco Mattesploso resta in carcere, il trentenne fermato. L'uomo davanti ai giudici non ha risposta alle domande. Continuano le indagini per trovare il resto della banda. Ad Atri, carenza idrica, il sindaco annuncia nuove interruzioni. A Pineto, rifiuti tessili a fuoco, un pompiere rimasto infortunato nella zona industriale di Scerne di Pineto. Atri, sede, coc e frana, bando del comune, emesso un avviso esplorativo per le imprese interessate ai lavori. Ed è tutto per le notizie dalla provincia di Teramo. Leggiamo insieme le principali notizie che arrivano dalle altre province abruzzese. Iniziamo con quella di Pescara, dove è partita la campagna anti-influenzale. Vaccini, prime 34 mila dosi pronti, 260 medici di base. La Asla avvia la distribuzione, i cittadini possono contattare gli ambulatori. Montesilvano, la sicurezza sulle strade, troppi incidenti, casale e colpa dei telefonini. All'Aquila, l'avvertenza battaglia vinta, tasse, arriva, lo stop alla restituzione. A Chieti, cambio in comune, Ferrara programmato sindaco, parto con i lavori sulle strade, ha detto il nuovo primo cittadino. Per la cultura e gli spettacoli, novità al cinema, arriva a Corsi, nello psicotriller, lasciami andare. Il disco e il concerto Torge presenta Live Aneddoti. Il cantatore Avezzanese presenta all'Aquila il suo album, che è appena uscito. Per quanto riguarda lo sport, l'amichevole di Firenze, l'Italia al Festival del Gol, anche con le seconde linee. La gara tra Italia e Moldavia è finita 6-0. Serie B, parola agli esperti, Pescara da playoff, Asencio decisivo, allenatori, DS ed ex biancazzurri fanno le carte al Delfino. Squadra buona, ma servirà del tempo per trovare l'amalgama. Serie C, Biancorossi, Bunino, golle promesse, Teramo, fidati di me, qui per spiccare il volo. L'attaccante prelevato in prestito dal Pescara si presenta. Questa piazza è l'ideale. Ho scelto il numero 32 di maglia come Vieri. Per quanto riguarda l'eccellenza, ieri c'è stato un turno infrasettimanale, anche in Serie C c'è stato un turno infrasettimanale, ma come sapete il Teramo ieri non ha giocato questi i principali titoli e i risultati della giornata. L'Alba manda l'Aquila in bianco, primo pareggio dei Rosso-Blu che vengono raggiunti in vetta alla classifica dal Delfino. Flacco, Portola, gara è finita 0-0, poi Nereto al terzo posto, una doppietta di Di Benedetto manda al tappeto il Cupello. Il Casalbordino festeggia la prima vittoria stagionale, finita la gara 3-2, Casalbordino, Renato Curiangolana. Molenda entra e trascina il Delfino Flacco-Porto al primo posto. Bacigalupo e Lanciano non riescono a superarsi, la gara è finita 0-0, poi Goleada della Torrese, il penne viene travolto, l'incontro è finita addirittura 7-0 a favore della Torrese. A Raiano di Moia illude il Villa pari di Pelino, Sambuceto a Picco, Cirelli mette le ali al Capistrello. Sparvoli illude lo Spoltore, Galli salva il Chieti. Nel finale la gara è finita in parità 2-2 tra Spoltore e Chieti. A Francavilla Vezzano rialza la testa, Acqua e Sapone travolta la gara è finita 0-3. E con i risultati di eccellenza concludiamo la lettura del Quotidiano Il Centro e andiamo a vedere insieme quali sono le notizie pubblicate questa mattina dal Quotidiano Il Messaggero. Condonate le tasse sospese, sisma superata la procedura di infrazione europea, 290 imprese su 330 non dovranno pagare. Il provvedimento riguarda il cratere del 2009 all'Aquila. Il sindaco Biondi, fine di un incubo. L'epidemia, contagi come ad aprile, Albani, Abruzzo, meglio del resto. D'Italia, Covid, 61 casi nel bollettino di ieri con il numero record di 2.500 test. Metà dei positivi in provincia dell'Aquila, un decesso a Lucoli, anche un bambino tra gli infetti. La politica polveriera centrodestra dopo la sconfitta a Marsiglio attende le mosse del Carroccio. La Lega ha riunito l'esecutivo del partito e il governatore vuole scongiurare la crisi di giunta. Pescara, Focolaio, in Questura. Ci sono 13 agenti positivi al coronavirus. All'Aquila, ultimatum di Biondi, entro sabato, i nomi degli assessori. La Lega potrebbe essere costretta ad un solo membro di giunta. Uscirà dalla maggioranza? A Chieti, Ferrara, primo giorno da sindaco. All'Aggiunta mancano due donne. Teramo, Covid, scuole subito nel caos. Tampone anche per i capricci. Bimba di sei anni respinta dalle maestre dopo un pianto addirotto. Non può entrare. La mamma minaccia di chiamare i carabiniere. Dice, è una vicenda incredibile. Con i primi freddi e qualche raffreddore, boom di richieste di testa. Almeno 300, in attesa di verificare la positività. Il caso trasporto di 44 disabili. I pullman non bastano. Le iniziative Natale coronavirus, primo incontro, luminarie e programma di eventi. L'esame Mariano morto d'infarto. L'indagine continua. A Pineto, rogo nell'azienda dei rifiuti. Ferito, un vigile del fuoco. Coronavirus, 14 contagi a Sant'Egidia La Vibrata. Scoppia il caso a insegnanti a Silvi. Genitori sul piede di guerra. Alunni positivi. Ma solo due maestre poste in quarantena. Nereto, tre malati in famiglia. Basciano, due farmacisti infetti. Attesora il risultato dei tamponi su alcuni soggetti a rischio. A Giulianova, materiali tattili ed è senza arbore. Nasce la piazza più bella della città. A Giulianova è tornato il vecchio che guarda il mare. Che dice per me quest'aria è il vero vaccino. Ad Alba Adriatica chiesa la scritta fatture sulla facciata. Il ritorno del corvo che semina. Anonimi. Per quanto riguarda lo sport, il Pescara sogna pettinare in campo. Complicata la situazione dell'ex bomber del Trapani. Forse legato ancora a Lecce. Eccellenza. L'Aquila solo pari con la forte Alba. Teramo, Bunino e Gerbi. Non saranno a Monopoli. Neoacquisti non sono al top della condizione. Mister Paci incontrerà il patron Iachini. Non abbiamo ancora un obiettivo vero e proprio. Lo troveremo strada facendo insieme. Eccellenza. Le altre partite. Torrese esagera. 7 a 0 al Penne. Il Nereto insegue. Avezzano. Le bevi punte decisive con l'acqua e sapone. La gara finisce 0 a 3. Marco Nato. 42 anni. Nega la gioia alla Virtus Lanciano. Spoltore Chieti. 2 a 2. Sparvoli e Galli fanno boom boom. Ed è tutto anche per il quotidiano Il Messaggero. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal quotidiano La Città. Questa è la prima pagina del quotidiano La Città. In primo piano la situazione legata al coronavirus. Andiamo a vedere insieme il quotidiano La Città. Un attimo di pazienza. Ecco qui. Nuovo picco di contagi in Abruzzo. Come dicevamo questo è il titolo principale della prima pagina. Sono 61 i nuovi positivi registrati ieri in tutta la regione. Focolaio nella questura di Pescara. Per quanto riguarda le prime pagine del quotidiano La Città che questa mattina ci dà qualche problema di lettura. E abbiamo un problema tecnico evidentemente. Allora comunico alla regia di preparare un servizio che abbiamo mandato in onda ieri nel telegiornale. Ecco torniamo a parlare, lo abbiamo letto poco fa, sia sul centro che sul messaggero degli eventi che il Comune di Teramo sta pensando per il periodo natalizio. Quest'anno c'è la novità ovviamente Covid permettendo di far partire prima le iniziative ovvero già dal mese di novembre, ascolteremo tra breve l'assessore Filipponi, già dal mese di novembre le manifestazioni natalizie. L'anno scorso c'è stato un grande successo, c'è stato un grande successo anche per il cartellone estivo e proprio sulla scia di Teramo Natura Indomita si sta lavorando per preparare il Natale Teramano. Sentiamo. Il Comune di Teramo sta lavorando per allestire il cartellone del Natale Teramano. C'è l'idea di anticiparlo temporalmente ovviamente in attesa di capire come evolverà l'emergenza coronavirus? Sì, era uno degli obiettivi che ce l'avamo posti anche negli anni precedenti, l'anno scorso ce l'avamo riusciti in parte perché dall'8 di dicembre avevamo anticipato i mercatini al primo. Potremmo anche partire dall'ultima settimana di novembre, potrebbe essere un'ipotesi. È chiaro che tutto dipenderà anche dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria che comunque condiziona in qualche modo il percorso organizzativo del Natale Teramano. In questo momento ci stiamo soprattutto preoccupando della parte degli allestimenti perché come ogni anno l'obiettivo è quello di trasformare la città di Teramo in un salotto. Far sentire i teramani e tutte le persone che ci vengono a visitare durante le festività farli sentire proprio a casa. A tal proposto c'è stato anche un incontro con i commercianti? Sì, più che i commercianti con il gruppo di lavoro che ogni anno si occupa di questa manifestazione. È chiaro che gli altri anni è stato il consorso dei commercianti a presentare il progetto, questo è ancora tutto da verificare. Quindi il gruppo di lavoro si è riformato e sta ragionando sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria e sugli allestimenti. Questa è una cosa molto importante e lo stiamo facendo con un certo anticipo rispetto agli altri anni. Quindi questo ci fa pensare che riusciremo anche a costruire qualcosa di molto bello che sia... Ma andrete avanti sulla scia della cosiddetta formula estiva che avete proposto ad agosto, ovvero tanti piccoli eventi? Oppure state pensando a qualche evento importante ma magari penalizzando la quantità? Ma gli eventi importanti sono comunque limitati alle mille unità, con costi sulle mille unità, con costi enormi sull'organizzazione. Non ci precludiamo nulla, però è chiaro che la formula di Terramaturo Indomita è una formula che funziona molto molto bene e che ci permette anche di andare a lavorare con tutti i nostri talenti, con tutti i talenti della città. Però ripeto, non ci precludiamo nulla perché tanto dipenderà dall'emergenza sanitaria. Ci sono varie soluzioni, varie possibilità che possiamo valutare. Dovremmo solo essere rapidi nelle decisioni quando il quadro sarà chiaro. Riprendiamo la rassegna stampa, abbiamo ripristinato il quotidiano della città, abbiamo letto il titolo di prima pagina, vediamo quali sono le notizie riportate all'interno. Tratta Roma Pescara, 7 miliardi dal governo. Il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli inseriremo quest'opera nella lista di quelle da commissariare subito. Covid-19, mai così tanti nuovi contagi da sei mesi. Sono 61 i nuovi positivi in regione, 32 riguardano la provincia dell'Aquila, 12 il Pescarese, 12 il Chietino e 4 la provincia di Teramo. Covid-19, arrivano le unità speciali per i bambini, l'aumento dei casi fra i minori di 16 anni ha spinto l'Asl di Teramo ad inserire i pediatri nelle USCA. Sempre per quanto riguarda il coronavirus, contagi in forte aumento in Val Vibrata, Sant'Egidio 14 positivi. Il sindaco annuncia il giro di vite a Colonnella, scuole chiuse fino al prossimo 24 di ottobre. Il Natale, Teramano, partirà a novembre, lo abbiamo appena sentito, tanti piccoli eventi pensati in centro storico. Il Capodanno in piazza però fa i conti con il rischio coronavirus. Riaffiora un tracciato dell'antica Interamnia, il rinvenimento in via Pretuzio durante gli scavi per la posa in opera della fibra ottica. Con le parco si trasforma in savane, i residenti protestano da mesi per le erbacce presenti sui marciapiedi e ai lati della strada. Transumanza e cucina pastorale, il tema sarà sviluppato nel corso di un convegno che si svolgerà oggi pomeriggio all'ipogeo. Anche oggi c'è l'inserto orizzonte e salute del gruppo d'archivio come ogni 15 giorni del giovedì. Maltrattata durante e dopo il matrimonio succede a Civitella del Tronto. Per anni è stata costretta a subire in silenzio umiliazioni, aggressioni e anche limitazioni della libertà. Le abilità, il Giro d'Italia porta nuovi asfalti su otto strade provinciali. La vendemmia registra un calo del 5%, crollo delle esportazioni all'estero, ma incrementi dei consumi in Italia, soprattutto in Abruzzo, e prezzi stabili. Giulia Nova, pronti 260 mila euro per la scuola di Amicis, approvato dalla Giunta Comunale, anche il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Dalmazia. A Roseto, la consulta dello sport nasce tra i malumori, la scelta di Angelini come rappresentante al tavolo del turismo non piace all'associazione Il Punto. Per la cultura, il fascino di Campli sul Rai 3, il Borgo Farnese protagonista della trasmissione alle falde del Chilimangiaro. Infine lo sport, diavolo, ora servono le reti di Ciro Bunino, presentato l'attaccante proveniente dal Pescara, che dice spero di assomigliare ad Immobile, anche nei gol. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina, andiamo ad ascoltare le previsioni del tempo, poi una breve pausa e poi incontriamo il nostro ospite Dante Caserta del WWF. Buongiorno amici di Super J, dopo il passaggio dell'impulso perturbato nella giornata di ieri, la situazione sta tornando gradualmente alla normalità, in particolare al nord e sulle regioni centrali, mentre su quelle meridionali persiste debole instabilità. La calma atmosferica proseguirà per tutta la giornata di oggi ed anche di domani, mentre da sabato si inizierà ad avvicinare un nuovo fronte perturbato, questa volta a carattere freddo, proveniente dal nord Europa, che determinerà nuovo maltempo sulla penisola a partire da sabato sera e soprattutto per domenica. Sulla nostra regione intanto sarà un giovedì all'insegna del cielo azzurro su tutti i settori, con solo poche nuvole che potranno addensarsi nel pomeriggio sui monti. La ventilazione sarà debole, proveniente dai quadranti settentrionali, ed il mare da mosso tenderà a divenire poco mosso entro sera. Le temperature, sebbene la giornata soleggiata, rimarranno piuttosto fresche, con valori massimi compresi tra 15 e 20 gradi, e minime della prossima notte comprese tra 6 e 13 gradi. Un saluto da Marco. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio l'ospite di questa mattina Dante Caserta del WWF Italia, del WWF Teramo. Buongiorno e ben ritrovato Caserta, bentornato nei nostri studi. Con Dante Caserta affronteremo tanti argomenti, torneremo a parlare anche dell'acqua del Gran Sasso, perché come dicevamo anche durante la pubblicità è una storia infinita purtroppo quella dell'inquinamento dell'acqua del Gran Sasso, e vedremo poi con Dante Caserta a che punto siamo. Ma facciamo intanto come va? Ah, io bene, abbastanza bene. Penso come tutti, insomma, un po' frastornato da questa situazione. Siamo svegliati stamattina con il nuovo DPCM che impone, io direi anche meglio così, perché tanto le mascherine le avremmo dovute portare, qualcuno è stato indisciplinato, per cui sono tornate alle imposizioni del governo, del presidente, del consiglio, per arginare il contagio da coronavirus. Sì, anche perché mi sembra che un po' di regioni già si stavano movendo in maniera autonoma, quindi si stanno creando delle situazioni di confusione, tanto vale, insomma, non sprecare tutto il lavoro che abbiamo fatto nei mesi scorsi e cercare di adeguarci, sperando che passi presto. Ricordiamo ancora una volta che il nuovo DPCM prevede l'obbligo di mascherine all'aperto dalla mattina alla sera, dunque quando si esce di casa bisogna indossare la mascherina. Il presidente Conte ha raccomandato di indossarla o almeno di mantenere le distanze di sicurezza anche in famiglia. Immagino che sarà difficile, non è obbligatorio, però è consigliabile indossare la mascherina quando si è in famiglia, quando si è con gli amici soprattutto, perché suppongo che con i conviventi ci si dorme, ci si mangia. È abbastanza difficile. Però se magari negli atteggiamenti mantenere più le distanze, abbracciarci di meno, io non lo so come si può dentro una casa avere atteggiamenti diversi rispetto a quelli soliti, ovvero cerchiamo di fare più attenzione anche nei posti di lavoro dove è consigliabile anche lì portare la mascherina quando non si può mantenere la distanza di sicurezza e quando non si lavora magari in ambienti isolati. Diciamo che se siamo bravi, insomma, riusciamo forse a vivere un'invernata un pochettino più tranquilla. Urban Nature, una manifestazione organizzata dal WWF che ha toccato anche Teramo e non solo Teramo in Abruzzo, ma si è svolta il 4 di ottobre, dove, a parte a Teramo? Siamo stati in provincia di Teramo anche a Martinsicuro, all'OASI WWF di Fosso Giardino e ad Alba Adriatica dove gestiamo insieme all'amministrazione comunale la spiaggia del Fratino e del Giglio di Mare. Sono state delle iniziative praticamente rivolte alla cittadinanza per far conoscere quelle che sono gli angoli di natura che ancora rimangono all'interno delle nostre città e che svolgono un ruolo fondamentale sia dal punto di vista del nostro benessere, perché chiaramente avere degli spazi verdi dove poter passeggiare, dove poter vivere in natura è sicuramente qualcosa di piacevole, ma anche dal punto di vista climatico, dal punto di vista del distesso idrogeologico. Cioè ci sono tutta una serie di funzioni che anche i parchi urbani, ad esempio i parchi fluviali che noi abbiamo a Teramo, svolgono in maniera importante e che finiscono per essere un vantaggio insomma per tutti noi. E la manifestazione di Teramo dove si è svolta e che cosa avete fatto? Noi abbiamo fatto proprio i parchi fluviali che sono questa realtà appunto conosciuta e apprezzata da tanti cittadini che sicuramente vanno dal nostro punto di vista ancora più valorizzati, perché rappresentano un elemento fondamentale e caratterizzante poi della nostra città, ricordiamo insomma Teramo come sappiamo tutti noi deve il suo nome proprio alla presenza di questi due fiumi, ci troviamo fra il Tordino e il Vezola e la presenza di questi parchi fluviali ci offre la possibilità anche di conoscere una serie di piante, ma anche di animali perché poi come è stato spiegato durante questo incontro io vi ho svolto la mattina. Si incontrano spesso degli animaletti, degli uccelli particolari insomma, poi ci sono anche delle aree c'è quel laghetto anche sul lungo fiume, l'area attrezzata dove io insomma mi fermo spesso ad osservare la fauna. Una proprio delle nostre guide che ci ha accompagnato ha fatto notare come ad esempio lì si possono vedere facilmente l'Aerone che un tempo invece era molto più raro ma addirittura lei ha visto il Martin Pescatore quindi insomma diciamo che ci sono delle situazioni veramente particolari che possono essere segnalate e anche apprezzate attraverso l'attività di educazione ambientale che noi svolgiamo nelle scuole. Il WWF è ovviamente abituato a questo tipo di manifestazioni, questa è una delle tante manifestazioni che si organizzano sul terreno tra l'altro in tempo di coronavirus diciamo che chi come il WWF e come tutte le associazioni ambientaliste organizza manifestazioni all'aperto diciamo che siete tra virgolette avvantaggiati perché come è noto insomma quando si svolgono attività all'aperto nel rispetto delle norme anti-covid è tutto più facile insomma è consigliabile restare all'aperto in questo periodo. La natura ci aiuta, nella natura c'è il distanziamento naturale c'è lo spazio sufficiente per fare qualunque cosa e restare a distanza di sicurezza. Infatti questo è proprio stato uno degli elementi caratterizzanti di queste edizioni di Urban Nature che si svolge in tutta Italia, noi abbiamo fatto oltre 120 iniziative in Italia domenica scorsa ed è proprio un modo per riavvicinarsi alla natura ma anche per in qualche modo apprezzare quello che durante il lockdown non abbiamo potuto vivere perché noi siamo stati chiusi in casa e ci mancava anche questo rapporto. Però c'è stato un riavvicinamento diciamo così alla natura dopo il lockdown Sicuramente sì. Tutti abbiamo sentito l'esigenza tanto di uscire di più di casa e l'abbiamo visto quest'estate insomma che ci siamo scatenati purtroppo. Però molti hanno scelto proprio il contatto con la natura tanto che è andato bene il turismo montano che da un po' non decollava come quest'anno per esempio. Sì sì, infatti ad esempio nei parchi nazionali noi ne abbiamo tre qui in Abruzzo ma poi ci sono tutte le riserve, noi gestiamo diverse oasi come WWF quest'anno abbiamo avuto una serie di presenze numerose. Chiaramente bisogna stare attenti perché anche quando si fanno le attività, le escursioni ci sono dei numeri contingentati, bisogna mantenere le distanze per quanto è possibile però abbiamo visto proprio che c'è stata una richiesta molto forte da questo punto di vista e secondo noi è significativo perché nel momento in cui abbiamo paura del futuro il fatto di tornare alla natura è una chiave di lettura anche molto interessante per quanto ci riguarda. Assolutamente sì. Prossime iniziative? La prossima iniziativa proprio per rimanere in tema di vita un po' all'aperto facciamo un'iniziativa un po' particolare perché la facciamo nel nostro centro di educazione all'ambiente di Cortino sabato prossimo, si chiama Perilaga, è un aperitivo per conoscere i monti della Laga quindi ci saranno vari momenti, un momento appunto di illustrazione di quella all'aperto quindi come se ci trovassimo di fronte ad una lavagna luminosa ma reale perché spiegheremo appunto come si sono formati i monti della Laga e come sono poi ci sarà invece un momento più conviviale con un gruppo musicale di Teramo che fa un omaggio a Fabrizio De Andrè e quindi... Me vengo! Dove siamo? Ci sarebbe molto piacere a Cortino, dalle tre e mezza in poi siamo lì Sì, quando? Di sabato prossimo E poi invece ci sarà un aperitivo con i prodotti tipici anche lì chiaramente chiederemo un po' di attenzione per quanto riguarda la somministrazione del cibo e delle bevande perché bisogna seguire alcune indicazioni però insomma nulla di particolarmente... Chi volesse partecipare cosa deve fare? Si deve immagino prenotare Sì, è necessario, è gratuito perché rientra nell'ambito delle iniziative organizzate dal Parco del Gran Sasso e Monti della Laga Esploratori con Gusto e è gratuito, bisogna andare sulla pagina Facebook del WWF seguire le indicazioni e fare una richiesta e quindi poi si ricevono le notizie per aderire Allora, il WWF ha anche avviato un progetto che si chiama Aule Natura un progetto interessante che tra l'altro in questo periodo è decisamente opportuno Di che si tratta? Sì, in pratica nasce tutto appunto da questa situazione della pandemia, del distanziamento delle necessità che hanno avuto anche le scuole di trovare degli spazi nuovi Noi abbiamo lanciato questa iniziativa simbolicamente peraltro inaugurando la prima Aula Natura proprio in provincia di Bergamo che è stata una delle zone più colpite dal coronavirus Sono delle aule proprio all'aperto con un laghetto artificiale, una serie di altre situazioni dove è possibile fare educazione ambientale direttamente sul campo e dove è possibile quindi vivere la natura senza in qualche modo farsela raccontare ma proprio viverla direttamente A proposito di natura posso perché sto tentando, oggi l'iPad ce l'ha con mail perché mi si è bloccato un giornale stavo tentando in tutti i modi far vedere poi il video che ringrazio Cristian De Luca in regia ovviamente ha visto le mie difficoltà Le nuove tecnologie queste da te si stanno ribellando alla sottoscritta è evidente il segnale di tornare alla natura e lasciare perdere tutto il resto per quanto mi riguarda Sicuramente Mi scuso se mi sono ma se veramente ci sto facendo la guerra però il filmato che avete visto era quello che io tentavo di ritrovare e che non ci sono riuscita E' proprio uno spot che promuove questa iniziativa legata alla scuola Che è stata una raccolta fondi proprio legata durante le iniziative di Urban Nature Abbiamo già in programma le prime dieci aule In Italia il progetto In Italia, sì, il progetto è in Italia Toccherà anche la nostra regione in qualche modo E dipende perché in pratica le varie scuole possono prenotarsi devono avere delle caratteristiche perché chiaramente ci devono essere degli spazi da poter adeguare Quindi man mano che arriveranno le richieste si vedranno quelle che saranno finanziate Chiaramente quanto più soldi e fondi riusciremo a raccogliere Tante più iniziative del genere riusciremo a fare Quindi questo è un invito anche a donare al WWF Vogliamo ricordare, ce lo ricordiamo il numero per la donazione? No, però ormai è facilissimo Basta andare sul sito www.it Si trovano tutte le indicazioni sia per diventare socio Sia per aderire a dei progetti Perché poi il WWF nasce per dei progetti specifici Noi i soldi che raccogliamo li investiamo Al di là di quelle che sono le attività che svolgiamo a livello locale I grandi progetti di conservazione sia in Italia e nel mondo Quindi uno può scegliere quelle che sono anche i suoi interessi particolari Se ha magari una specie animale a cui è particolarmente affezionato Può individuare perché effettivamente c'è veramente tanto da fare E veniamo all'acqua del Gran Sasso Nota dolente Tanto adesso c'è un, diciamo così, è sceso un po' il silenzio Ma il coronavirus ha spento, tra virgolette, le luci su diverse emergenze Che continuano ad esistere e sulle quali si continua a lavorare Era previsto anche un flash mob un paio di settimane fa Però poi è stato proprio annullato per l'emergenza coronavirus Le domande sono sempre le stesse Quelle che vi fate e quelle che fate Voi ed altre associazioni ambientaliste Ma le risposte mi sembra di capire che non arrivano Allora diciamo che la situazione attualmente è questa Noi abbiamo stato nominato un commissario da ormai di diversi mesi È stato un iter peraltro molto lungo per arrivare alla nomina Più che mesi, anzi diciamo ormai più di un anno E che deve mettere in piedi tutta un'operazione di individuazione Innanzitutto della soluzione Ma sta lavorando già a pieno regime? Allora noi l'abbiamo incontrato già due volte Devo dire che rispetto al passato Il commissario Gisoni ha mostrato una Come dire, trasparenza e volontà di partecipare Diciamo che almeno c'è un interlocutore diretto Sì, e questo credo che sia importante Sicuramente ha risentito della fase del coronavirus Sicuramente ha avuto dei rallentamenti Per quanto riguarda tutta l'organizzazione degli uffici del commissario Che ha richiesto secondo noi un tempo troppo lungo Con delle responsabilità che lui individua Anche nel fatto che non gli indicavano una sede specifica Su Roma e situazioni di questo genere Poi la sede l'ha trovata Detto questo sembra che adesso la situazione Da questo punto di vista sia risolto Quello che noi abbiamo trovato veramente grave È che il commissario anche durante l'ultimo incontro Ci abbia detto che in effetti L'operazione che sta svolgendo attualmente Che durerà fino a tutto dicembre Quindi fino alla fine di quest'anno È proprio, come dire, l'analisi della situazione Cioè noi a distanza di più di vent'anni Da quando effettivamente il problema è sorto Abbiamo ancora il commissario di governo Che ci dice che devono verificare Tutti quelli che possono essere i punti di interferenza Che ricordiamo Abbiamo tra queste due situazioni particolari E per certi versi pericolose Che sono le gallerie autostradali E i laboratori di fisica nucleare Che insistono proprio all'interno dell'acquifero Il fatto che a distanza di così tanti anni La prima vera emergenza registrata C'è stata nel 2002 Si parla addirittura dagli anni 90 Insomma dell'emergenza Inquinamento acqua sotto il Gran Sasso Però ad oggi insomma Siamo quasi fermi ad allora Se non per delle figure insomma Con le quali relazionarsi Siamo fermi ad allora Anche perché abbiamo avuto Peraltro anche un commissario Già un commissario Che è il commissario Balducci Che peraltro ha avuto a disposizione Circo 80 milioni di euro E che poi nel momento in cui Si è riverificato il nuovo incidente Sostanzialmente si è capito Che tutte le cose che ci erano state dette Che erano state fatte una serie di lavori Dei lavori che non erano stati Assolutamente sufficienti Perché noi ci siamo ritrovati Nella situazione paradossale del maggio del 2017 Che praticamente a un certo punto L'acqua non è stata più data A tutta la provincia di Teramo Lì il lavoro più semplice Era quello di impermeabilizzazione Almeno per separare diciamo così Le gallerie dall'acquifero Forse è un po' più complicato Insomma fare lavori per il laboratorio Beh diciamo che Allora bisogna ammettere La situazione è veramente complicata Perché noi ci troviamo in una situazione Che probabilmente non ha altri elementi Diciamo che l'acquifero Non Cioè per mettere in sicurezza Quell'acquifero Non bisognava realizzare Né l'autostrada Né posizionare lì i laboratori del Gran Sasso Sicuramente Visto che è successo Bisognerebbe insomma Desprenderne atto E sistemare la situazione Si possono fare una serie di iniziative La prima era quella Ad esempio che noi abbiamo sempre chiesto Intanto togliamo le sostanze pericolose Che possono avere dei problemi Che possono dare dei problemi Sull'acqua Dai laboratori Perché i laboratori fanno tanti esperimenti Alcuni probabilmente non sono adatti Al posto in cui si trovano Proprio per una questione di sicurezza intrinseca Cioè possiamo fare tutti i lavori che vogliamo Ma è meglio che quelle sostanze non ci sono Siamo arrivati a oggi Che è stata fatta la valutazione di incidenza Per quanto riguarda questo piano Di togliere una serie di sostanze E aspettiamo appunto che poi si entri effettivamente nel vivo Per il resto appunto Siamo da anni a segnalare dei problemi Da prima ci prendevano per matto Poi insomma Chi ha vissuto queste vicende Noi spesso ci scherziamo Perché ci siamo diventati veramente vecchi No su questa cosa Beh dal 2002 intanto sono passati 20 anni L'abbiamo vissuta in tutte le fasi E francamente insomma Il fatto che a distanza di 20 anni Il commissario di governo ti dica Che devono ancora studiare il problema È un aspetto che sarebbe da richiamare Tutti quelli che ci sono stati prima E dire ma cosa avete fatto fino adesso Poi tra l'altro ci sono stati anche degli stanziamenti importanti Proprio per fare questi interventi Il commissario ha avuto Il precedente commissario ha avuto circa 80 milioni di euro Una delle vostre domande Cosa ci avete fatto con questi soldi? Che cosa è stato fatto? Perché poi in effetti Anche qui Se ricorderete Quando è ripresa un po' tutta la vicenda Dopo l'incidente Appunto in cui fu interrotta l'erogazione dell'acqua In quasi tutta la provincia Eramo La prima cosa La prima domanda che si fece fu quella Ma allora che cosa abbiamo fatto fino adesso? Che fino hanno fatto quei soldi? La preoccupazione è che magari si torni a parlare In maniera anche incisiva del problema Quando si verificherà Speriamo di no Perché diciamo che le disgrazie che abbiamo Al momento da gestire sono sufficienti Magari quando si verificherà un altro sversamento E magari quando ci sarà un altro episodio di inquinamento Speriamo di no Non ci arriviamo Ecco diciamo così Beh non ci dovremmo arrivare Allora diciamo che Alcune cose le abbiamo ottenute Ad esempio Allora diciamo sempre che È un po' paradossale Che ci siamo arrivati Dopo che è successo quello che è successo Perché ci si doveva pensare prima Però già il fatto che adesso C'è un sistema di allerta Rispetto all'eventuale distribuzione Di acqua contaminata È fondamentale Questo bisogna riconoscere Che almeno sul versante Terramano Ma anche sul versante Aquilano È stato messo un sistema Che quantomeno ci avvertirebbe In caso di nuovo incidente Però è evidente che insomma Noi come dire La messa in sicurezza Dell'acquifero del Gran Sasso Che ricordiamo deve essere Una messa in sicurezza Dei laboratori e dell'autostrada Perché non dobbiamo sacrificare L'acquifero ai laboratori e all'autostrada Questo è un tema abbastanza importante Che a volte sembra un po' sfuggire Sembra quasi che tutti i problemi Bisogna prima risolvere i problemi Dell'autostrada e dei parchi Bisogna risolvere i problemi Dell'Istituto Nazionale Fisico-Nucleare E i problemi invece che arrivano Dal fatto di mettere a rischio La principale risorsa d'acqua Dell'Abruzzo passano in secondo piano No, è esattamente il contrario Noi dobbiamo Ricordiamoci peraltro Che ci troviamo all'interno Di un parco nazionale Quindi anche quando ad esempio Si dice ma quell'acqua Che eventualmente è contaminata La rilasciamo in natura Beh, noi stiamo rilasciando Acqua eventualmente contaminata All'interno di un parco nazionale Che dovrebbe essere Il massimo grado di protezione Che c'è in Italia E ricordiamoci anche all'interno Di siti di interesse comunitario E di zone di protezione speciale Che dovrebbero essere Il massimo livello di protezione In Europa Quindi insomma Dobbiamo essere veramente attenti E dobbiamo capire Che cosa si vuole fare E voi che tipo di mobilitazione State portando avanti? Beh, noi allora Da anni abbiamo provato Innanzitutto diciamo Che c'è stata una prima fase Che è stata quella Anche in certi momenti Di netta opposizione Perché oggettivamente Quando si voleva addirittura Realizzare il terzo traforo Del Gran Sasso E l'ampiamento dei laboratori Andando a insistere nuovamente Sull'acquifero O quando si voleva negare Che esisteva il problema Perché ricordiamoci adesso Tutti quanti dicono Che il problema esiste Ma io ricordo che Quando facemmo la prima segnalazione L'allora direttore dell'arte Che peraltro è lo stesso Rinominato adesso Fece una dichiarazione In televisione Che diceva che ci voleva Denunciare per procurata allarme E agli atti Quindi diciamo E poi la storia Insomma O quantomeno la cronaca Ha visto Chi aveva ragione Chi stava svolgendo E oggi ci troviamo Tutti quanti a riconoscere Che il problema Che il problema c'è Dopo noi abbiamo provato Anche facendo nascere Questo osservatorio Indipendente Sull'acqua del Gran Sasso Che riunisce un po' Tutte le associazioni principali Anche un approccio diverso Cioè abbiamo detto Alle istituzioni Collaboriamo Noi abbiamo fatto Questi lavori Abbiamo Comitato di Centri Tra l'altro siete stati inseriti Grazie alle vostre battaglie Anche in un tavolo governativo Non ricordo In realtà no Non siamo mai stati inseriti No perché c'era stata Questo appiccinamento Eravate state chiamati Dopo che ci fu Quella manifestazione Che ebbe anche Un grande successo Se ne parlo a livello nazionale La manifestazione Sull'acqua di Teramo Lì qualcosa si mosse Però poi si Lì qualcosa si mosse Però in effetti Noi nel comitato scientifico Istituito dalla regione Abruzzo Diciamo giunta precedente Non siamo mai stati coinvolti Siamo riusciti a entrare Una sola volta Durante una riunione Ma più che altro Di come dire Quasi di nascosto Perché lasciarono aperta la porta E i nostri entrarono E ascoltarono Ma dal punto di vista ufficiale Questa cosa non dice Mi ha voluto sorridere Perché sembrano azioni No siamo nel 2020 Ma sembrano no Azioni del Degli anni in cui C'erano le lotte sociali Che si entrava No magari si rischiava Anche la galera Ma si entrava nei palazzi No aprendo le porte Abusivamente Avete fatto più o meno Un'azione carbonara Diciamo che siamo stati tollerati Però è stato un unicum Perché poi se non ti convono Chiaramente tu lo puoi fare una volta Ma non è che puoi farlo adesso Anche nella fase in cui c'è stata la nomina del commissario Noi ad esempio avevamo detto Che in quella cabina di regia Che è stata istituita Che vede il presidente Marsiglio Come presidente E in qualche modo Referente Di questa cabina di regia Locale Si inserissero le associazioni Anche perché noi siamo delle associazioni Che siamo riconosciute Dal ministero dell'ambiente Abbiamo un ruolo Che viene riconosciuto Dalla legge Quindi si trattava Semplicemente Di aprirsi Poi è chiaro che Chi deve prendere le decisioni Non sono le associazioni Sono le istituzioni Ci mancherebbe Però le associazioni Possono portare l'esperienza E la partecipazione Anche per fare da tramite Verso la cittadinanza Altrimenti non ci meravigliamo Se poi Nel momento in cui Si verifica il problema Anche come dire L'approccio che abbiamo È quello di correre A prendere l'acqua Nei supermercati Quelle scene che vedemmo In quei giorni Che vi raccontaste In maniera puntuale Perché effettivamente Fu la prima volta Che noi vivevamo Quel problema Che magari vivevamo In televisione Che l'acqua Che ci sembra una cosa Assolutamente normale Aprire il rubinetto E poterla bere Non lo potevi fare più Tra l'altro l'acqua Che è anche riconosciuta Come una delle acque migliori Migliori In Italia Insomma È stato Sì Quelli furono scene Veramente paragonabili Quasi Al lockdown Alla spesa Durante il coronavirus Al contrario Nel senso Che in quei giorni C'era l'assalto Ai supermercati Con gente Che si arrampicava Fisicamente Sugli scaffali Per prendere Tutta l'acqua disponibile Tutta l'acqua disponibile Accade Noi magari siamo presi Da un problema In questo momento Poi arriva un altro problema E veniamo distratti Dal secondo problema Diciamo che questo problema Che è arrivato adesso Proprio ci ha distratto Da tutto il resto Io direi che Ma la provincia di Termo Se uno ci pensa Negli ultimi anni Abbiamo vissuto di tutto Dal terremoto La nevicata straordinaria Appunto L'acqua del gran sasso Poi alla fine Il coronavirus Quindi rientrare In questa pandemia Generale Diciamo che Sono stati Anni veramente Complicati Per cui ogni volta L'attenzione viene Richiamata dall'ultimo Problema che Arriva Però quello Dell'acquifero del gran sasso È un problema Che continua a esistere Che deve essere Affrontato E che bisogna fare Una volta per tutti Cioè Questa volta È stata scelta La figura del commissario Noi avevamo dei dubbi Perché pensiamo Che possa portare Anche una De responsabilizzazione Degli organi Di governo Locali E regionali Però alla fine Il governo Ha scelto Di fare il commissario Ora però Il commissario Deve essere messo Nelle condizioni Di lavorare E lui deve lavorare Cioè deve portare a casa Il risultato E la messa in sicurezza Anche perché ha Una serie di fondi Quindi è importante Anche a Terramo e provincia Ci sono spazi scolastici Esterni Che potrebbero essere recuperati Penso ad esempio Al cortile Di fianco Al liceo classico Ora usato Come parcheggio Lì se non sbaglio Caserta ha capito Sì Qual è Insomma Terramo Chiedi Terramo Lì qualche progetto Mi sembra di ricordare Che ci fosse Non mi ricordo Chi Non so se è proprio Delle associazioni ambientaliste Mi ricordo Alcune conferenze stampa In un certo periodo Per recuperare Quello spazio Allora io Onestamente Non lo ricordo Però direi Sarebbe buono Anche per attività fisiche Insomma Ricreative fisiche Per la scuola L'approccio appunto È quello Nel senso che Noi dobbiamo cercare Quelle che sono Delle aree Che possono essere Anche rinaturalizzate Cioè noi dobbiamo Pensare che una città Non è vissuta soltanto In funzione dell'auto E quindi deve avere Il parcheggio Fino a sotto al lavoro O sotto casa Ma è una città In cui devono vivere tutti I cittadini I pedoni Chi vuole andare in bicicletta Chi utilizza l'auto Anche Quindi non è che Si toglieranno le strade Però deve essere una cosa Una situazione Un po' più armonica Purtroppo Vediamo che sta Accadendo L'esatto contrario Cioè pensare ad esempio Che si sta ipotizzando Di fare il parcheggio L'ennesimo parcheggio Per l'istituto Zooprofilattico Andando a colpire Il lungo fiume È una scelta Che secondo noi È assolutamente Non accettabile Così come Il nuovo ospedale Andare a costruire Un nuovo ospedale In una zona Che comunque Si è preservata Fino a questo momento E quindi al di là Delle scelte Strategico urbanistiche Che possono Magari giustificare O meno una cosa Bisognerebbe pensare Invece a mantenere Quello che abbiamo Anche perché c'è già Una viabilità Insomma no al consumo Del suolo No al consumo del suolo E quello che diciamo sempre Nei convegni Nelle pianificazioni Però poi lo dovremmo Mettere in pratica Io voglio chiudere Con Visto che da oggi È scattata ancora una volta L'obbligo per le mascherine All'aperto Eccetera eccetera Il DPCAM che conosciamo E visto che è una Cattivissima abitudine Oramai da tempo Di gettare le mascherine Usate nell'ambiente Il WWF ha lanciato Una campagna Anche contro Questa cattivissima abitudine Non deve finire così C'è anche questo spot Con una mascherina Chirurgica E non solo quelle chirurgiche Insomma io vedo di tutto Anche sul lungo fiume Che frequento abitualmente Non va bene insomma Perché crea inquinamento Assolutamente no Crea inquinamento Ricordiamoci che noi Tutto quello che lasciamo In natura Poi in qualche modo Ce lo ritroviamo Da qualche altra parte E questi sono oggetti Che sono destinati A durare per decine E decine di anni In alcuni casi Come la plastica Per centinaia di anni Cioè ci sopravvivono Per generazioni E quindi dobbiamo Essere molto responsabili Noi facciamo ogni anno Tutta una serie di pulizie Lungo le spiagge La maggior parte Del materiale che si trova È il materiale Che noi abbandoniamo E quest'anno Tantissime mascherine Sono state trovate Da questo punto di vista Si tratta di essere Attenti Sia nel momento In cui si usa la mascherina Attenti per quanto riguarda La nostra salute Ma poi attenti Anche nel momento In cui si deve conferire Negli appositi contenitori Perché è assurdo Lasciarle in questa maniera Perché creiamo Un doppio danno Anche dal punto di vista Ambientale Anche perché I danni Che abbiamo creato Negli anni All'ambiente L'ambiente ci sta restituendo Sotto varie forme Insomma I risultati Non voglio No Parla del coronavirus Non sono Lasciamolo perdere Però Non è detto Insomma Che non sia Anche il coronavirus La conseguenza Di comportamenti sbagliati Verso l'ambiente Sicuramente Comportamenti sbagliati Verso l'ambiente Portano a disastri ambientali Quando nevica Perché Nevica troppo Magari In passato Non era mai successo Magari Scelte sbagliate Nella costruzione Delle case Di terremoti Che poi le distruggono Le alluvioni Le alluvioni Sono assolutamente L'esempio Più calzante Di scelte ambientali Sbagliate Sbagliate Di danni All'ambiente L'elenco Sarebbe lunghissimo Ripeto Io non ci voglio Inserire il coronavirus Perché non ho le competenze Per poter dire Magari Se ci fossimo comportati In una determinata maniera Forse una pandemia Di questo tipo Non sarebbe mai arrivata Non lo so Però Dandè Caserta Ci sono degli studi Che dimostrano Come effettivamente L'aver portato Una serie Strade Addirittura Allevamento Di animali Poi destinati Al consumo umano A contatto Diretto Con le foreste In determinate Parti del mondo Dove magari C'erano già Degli animali Che avevano Quel tipo Di virus Ha consentito La trasminazione Il passaggio Di quel virus Ad altre specie animali E poi da queste Al nuovo Certo L'animale selvatico Che si è avvicinato All'animale D'allevamento E l'animale D'allevamento Ha preso magari Quelli erano virus Che erano Come dire Confinati In una determinata zona Con determinate specie E all'uomo Non avevano dato problemi Fino a quel momento E da questo punto di vista Invece si sono registrate Delle situazioni Ora non bisogna Esagerare Anche perché La scienza appunto Avremo tempo Per valutare Anche questi aspetti Però quello che è sicuro È che noi Tutte le volte Come giustamente Dicevi tu Quello che facciamo Alla natura Alla natura In qualche modo Ce lo restituisce Perché È come se voi A casa vostra Buttate del materiale Per terra Sul pavimento Se non lo togliete voi Qualcuno lo ritroverete lì Per sempre Da questo punto di vista È veramente emblematico Le pulizie Che abbiamo fatto A Come dire Che facciamo Sulla spiaggia Allora intanto A proposito di spiagge Nel biotopo Di Martinsicuro Hanno avuto L'infelice idea Della Bau Beach Assurdo Lo dice Carlo Ha ragione Carlo Nel senso che A volte Allora Le Bau Beach Io sono favorevole Alla Bau Beach Ma lo siamo anche noi Non so in questo caso Che problema può dare In quell'area Protetta Però sono assolutamente favorevole Io ho un cane Quindi sono assolutamente Favorevole Da questo punto di vista Nel caso specifico Perché creerebbe problemi? Nel caso specifico O diciamo In generale Ci sono delle zone Che hanno delle valenze Naturalistiche particolari Ad esempio Il biotopo Di Martinsicuro È uno degli unici Tratti liberi Di costa abruzzese Che si è mantenuto E quindi va Conservato Dove ad esempio C'è la presenza Del fratino Che è una specie Assolutamente Da tutelare Perché ne sono rimasti Veramente pochissimi Da questo punto di vista Il cane Lasciato libero È Anche un pericolo Per il fratino È un predatore Assolutamente Perché fa la del suo mestiere Corre dietro al fratino E lo fa scappare Quando ci sono i piccoli Addirittura Si mangia le uova Insomma Dunque Sì alle spiagge per i cani Ma magari Posizionate in maniera diversa Da questo punto di vista Noi offriamo consulenza Dalle amministrazioni Assolutamente gratuite Individuando quelle Che siccome sappiamo Tutti i posti dove sono i fratini Noi possiamo dire tranquillamente Qui no E lo possiamo fare A 500 metri Non dà nessun tipo di fastidio Bene Allora Noi ringraziamo Dante Caserta Del WWF Che abbiamo ritrovato Con grande piacere Non dimentichiamo mai Di proteggere E di rispettare Il nostro ambiente Benissimo E soprattutto Le mascherine Non le buttate per terra Perché si possono tranquillamente Buttare Nel secco Nel rifiuto Nell'indifferenziato Non riciclabile Insomma Nell'indifferenziato Meglio ancora Cercheremo di usare Quelle che possono essere Riutilizzate Perché abbiamo visto Che lavandole Un certo tipo di maschine Possono essere Riutilizzate Per un certo numero Di volte Quindi Insomma Basta avere Dei comportamenti Un po' Come dire Attenti E consapevoli E riusciamo a superare Anche questa Allora Grazie Dante Caserta Del WWF Grazie a Cristian De Luca In regia Grazie soprattutto A voi per l'attenzione Questa trasmissione Come sempre Torna in diretta Anche domani mattina Dalle 7 alle 8 Grazie E buona giornata Grazie a tutti